Tenetevi pronti, il 2 giugno abbiamo deciso di organizzare una iniziativa per dare voce agli italiani. Chiaramente non sarà una manifestazione tradizionale, modello Piazza San Giovanni o modello Piazza Montecitorio, ma il fatto che non si possano fare manifestazioni tradizionali perché vogliamo rispettare le regole sulle distanze tra le persone, le regole che dicono che non si può andare da una regione all'altra, non significa che con la fantasia non si possano trovare strumenti per manifestare il proprio dissenso verso un governo che ha limitato la libertà degli italiani a colpi di decreto, che non ha ancora dato alle aziende le risposte di cui hanno bisogno perché sta lì a occuparsi delle sanatorie indiscriminate per gli immigrati clandestini e della scarcerazione di centinaia di boss mafiosi. Noi vogliamo dire che la pazienza è finita e lo vogliamo fare ovviamente col vostro aiuto. Vi faremo sapere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quali saranno le modalità per poter partecipare a questo evento che chiaramente vorremmo condividere con tutto il centro-destra. Il 2 giugno, segnatevi questa data, è il giorno in cui gli italiani tornano a parlare di libertà e di orgoglio.